alessandro mario volano vivi centro tripletta per te la mia domanda è zio vincenzo te l'ha dato il pallone a chi dedichi questa tripletta zio vincenzo mi ha dato il pallone eccolo qua sono contento di mostrarvelo ovviamente fare un'intervista dopo una tripletta una vittoria così importante sempre fa sempre piacere questa tripletta la dedico alla città ai tifosi che che ci seguono sempre numerosi anche se sono lontani ci hanno fatto capire ci hanno fatto sentire veramente l'importanza che che era questa gara di vincere contro la turris siamo contenti di avergli dato questa gioia soprattutto siamo contenti perché stiamo dando continuità ai risultati abbiamo raggiunto il catania non dobbiamo fermarci allora io nell'arco della mia carriera ho sempre giocato da solo davanti mi sono sempre trovato bene anche ma anche perché comunque il mio modo di giocare è diverso dalla classica prima punta mi muovo tantissimo copro tanti spazi ovviamente essendo l'unico riferimento riesco a prendere più palle però comunque io gioco per il bene della giusta abbia giocare da solo giocare in coppia non mi fa nessuna nessuna differenza ma io ho sempre avuto la fiducia sono sempre stato tranquillo come ben sapete io che sono abbastanza esperto di questa categoria e ho sempre sempre portato i numeri a casa sono quindi non ho mai avuto problemi anche quando c'è stato quel periodo dove non riuscivo a segnare ma io sono venuto qui per cercare di portare la questa abbia più in alto possibile basta poi se io faccio gol e perdiamo non serve a niente se i miei gol portano punti e la squadra raggiunge posizioni di classifiche importanti è sicuramente il primo il primo primo pensiero il primo obiettivo e per questo lo sono qui giovanni donna rumma vivi centro una dedica vabbè l'hai fatta già la dedica per questa tripletta e ora questa squadra dove puoi arrivare non lo so è questo è bello perché se sapessi dove possiamo arrivare ma neanche ve lo direi perché comunque svellerai la sorpresa siamo una squadra molto giovane oggi era vera eravamo veramente molto giovani in campo però abbiamo un'idea di gioco siamo uniti abbiamo capito veramente che maglie indossiamo e risultati ci danno fiducia dobbiamo continuare su questa strada cercare di portare a casa più punti possibili per raggiungere la posizione migliore natale giusti vivi centro grande tipetta oggi conferma di una grande condizione fisica quali obiettivi ti prefiggi per la con la juve stabia da qui a fine campionato l'ho detto arrivare più in alto possibile a fine campionato per poter disputare i playoff nella posizione migliore sì mi esaltano mi esaltano le partite importanti quelle che contano quelle che la gente ci tiene sul serio ovviamente ho avuto la fortuna la bravura di incidere in tante partite come queste quindi sono molto contento grazie a tutti